Siamo nuovamente insieme, quindi di nuovo bentornati e come avete visto è un altro appuntamento che condividiamo con informaci, tra l'altro l'ultimo per questo 2019. Detto questo andiamo subito a conoscere gli ospiti che sono qui con noi, ovviamente il primo come sempre è il nostro direttore di Acicomo, Roberto Conforti. Buonasera e bentornato. Grazie a voi per l'invito. E con il direttore c'è come sempre un ospite particolarmente esperto dell'argomento che andremo a trattare, quindi saluto e ringrazio Bruno Vasoli, agente Sara Assicurazioni. Buonasera e grazie anche a lei per essere qua. Grazie, buonasera. Prima di iniziare la chiacchierata vi ricordo ancora una volta avete sempre una mail a disposizione che è infochiocciolacicomo.it e potete scrivere assolutamente tutte le vostre richieste particolari. Ma Conforti, subito torno da te. Allora questa sera un argomento importante come tutti quelli che abbiamo trattato con voi. Assicurazioni. Che cosa accade se si viaggia senza essere coperti da una polizia assicurativa? Diciamo che partiamo da un dato stimato chiaramente perché è difficile avere un dato preciso. Si stima che in Italia circa 4 milioni di autoveicoli circolano senza assicurazioni. Ed è un dato preoccupante? E' un dato preoccupante a cui si sta cercando di limitare e di ovviare diciamo. E' chiaro che tante sono per motivi di truffa quindi è difficile lì riuscire ad arrivare. Però già adesso i sistemi di rilevazione delle zone a traffico limitato già segnalano. Quindi ci deve essere chiaramente una maggiore interconnessione tra le diverse banche dati dall'ANIA a quella dei comuni. Quindi diciamo che è un dato preoccupante. Quello che vogliamo parlare stasera è cosa succede a un'automobilista che dovesse fare un incidente con un'autovettura che è sprovvista di assicurazione. Un altro caso potrebbe essere con un veicolo non identificato. Si fa un incidente, scappa e non riesce a... E quindi questi sono i casi in cui una persona effettivamente non sa cosa fare. Ma esistono delle tutele in questi casi? Certo, diciamo che esiste la tutela rappresentata dal Fondo Vittime della Strada che è stato istituito diciamo e che serve proprio a tutelare in questi casi qua. Noi dal sito potete vedere proprio diciamo tutte le condizioni. È chiaro che questo fondo a cui diciamo contribuiscono un po' tutte le assicurazioni e a tutela un po' di tutti si attiva... va attivata dalla persona quindi che va richiesta, quindi c'è un modulo da compilare in un determinato tempo in cui si può richiedere un diciamo risarcimento. È chiaro che ci sono delle limitazioni e delle problematiche sia perché in alcuni casi risponde solo per i danni alla persona in altri casi risponde per i danni alla persona e alle cose ma con un massimale. Quindi diciamo esiste una tutela va attivata dalla persona e in tutto il determinato tempo ci sono delle franchicie quindi una persona... è chiaro che cosa consigliamo noi sempre di far intervenire le forze dell'ordine perché il verbale che viene fatto dalle forze dell'ordine serve proprio a maggior... Per certificare, per dimostrare, per richiedere anche insomma questa assistenza È chiaro perché poi ci sono delle responsabilità sul fatto che uno circola senza assicurazione ma anche, parliamo sempre soprattutto, in caso di veicolo non identificato se c'è un verbale delle forze dell'ordine è più semplice dimostrare che si tratta di un sinistro effettivamente avvenuto quindi è quello il punto quindi noi diciamo sempre rivolgersi alle forze dell'ordine per avere un verbale poi c'è la tutela quindi la persona riesce ad avere delle tutele 4 milioni è tanto noi parliamo su un parco veicolare che abbiamo visto prima quindi è più o meno intorno al 10-12% è davvero una percentuale molto alta è una percentuale alta però ricordiamoci sempre quindi le tutele ci sono questo fondo vittime della strada viene praticamente attivato cioè è designato in ogni regione una compagnia assicurativa che poi effettua i risarcimento quindi la prima cosa da sapere ecco perché è importante quel sito che abbiamo detto prima a chi rivolgersi e lì in base alla regione è stato designato una compagnia assicurativa dall'ultimo diciamo in Lombardia era l'Alliance quindi lì si vede regione perché conta dove è la residenza dove è avvenuta il sinistro quindi si vede a chi rivolgersi a chi inviare la richiesta cioè il modulo va attivato quindi non è automatico questa è un'altra cosa che bisogna sapere non è che interviene in quei casi interviene devi richiederlo tu quindi va attivato da parte consiglio sempre di avere comunque un verbale delle forze dell'ordine che c'è la constatazione del sinistro e poi ci sono delle franchigie cioè delle franchigie sia per i danni alla persona sia per i danni alle cose ecco perché ritorniamo sempre al punto centrale di tutto quello che stiamo dicendo in questa trasmissione l'informazione è importante e quindi la sicurezza patenti abbiamo visto nella precedente trasmissione le gomme il prezzo è sempre l'elemento importante sia quando si iscrive un figlio all'autoscuola sia quando si mettono le gomme in tutti i vari passaggi anche l'assicurazione adesso conta solo il prezzo non sappiamo mai mai quale sono le clausole contrattuali tante polizze che costano poco c'è la rivalsa non lo sappiamo magari c'è la guida esclusiva non lo sappiamo la rivalsa tanti chiedono ma cosa può succedere c'è il limite adesso ero zero ero uno ma la multa non la fanno ma poi la compagnia risponde o si rivale su di te quindi anche l'assicurazione è un momento importante di informazione tante assicurazioni quindi la rivalsa è importante quindi sapere bene le clausole contrattuali perché se paghi meno tanto meno probabilmente c'è una tutela inferiore ed è necessario andare ad approfondire di cosa si tratta allora io direi approfittiamo di un addetto ai lavori della gente sarà assicurazioni Bruno Vasoli che è qui con noi questa sera allora innanzitutto un commento su questo dato significativo di veicoli che purtroppo viaggiano senza avere una copertura assicurativa e con i quali noi potremmo sfortunatamente imbatterci quindi da parte vostra qual è il commento sì questi veicoli sono parecchi come diceva dottor Conforti e ogni tanto capita di sentire Sara assicurazione per esempio ha messo una garanzia da poco quindi ci sono ulteriori tutele alle quali potremmo attingere oltre appunto al fondo vittime della strada che si trova in un pacchetto all'interno della polizza in cui paghiamo i danni da veicolo non assicurato certamente deve essere verbalizzato dalle autorità quindi come suggeriva Conforti questo è un aspetto indispensabile indispensabile per avere il risarcimento e paghiamo i danni al veicolo fino a 5.000 euro oltre questo poi nello stesso pacchetto abbiamo anche collisioni con animali selvatici o rondaggi che anche su questo ogni tanto capita poi abbiamo perdita chiavi quindi altre situazioni che possono accadere ma Vasoli mi interessa il suo commento anche su un altro aspetto che Conforti ha sottolineato ovvero che in realtà anche per quanto riguarda la sottoscrizione di una polizza assicurativa in qualche modo si dà una particolare attenzione al costo e quindi magari si tralascia l'approfondimento dei contenuti da parte vostra come assicuratore qual è l'approccio con chi vuole contrarre una polizza con voi è d'accordo che sia importante approfondire i contenuti certo certo è molto importante come si diceva per rivalse perché le rivalse anche su chiediamo che cosa significa la rivalse può essere per il stato di abbrezza uno non è che deve essere ubriaco per cioè però se supera magari la percentuale del tasso alcolico capita un incidente questo si trova nelle grane insomma certo poi può essere non so guida non conforme anche qui che cosa significa guida non conforme può essere senza revisione e quindi anche in questi casi può scattare la rivalse della quale lei stava parlando certamente sì sì quindi detto questo è importante anche da parte vostra andare a far comprendere che un prezzo di un certo tipo comunque corrisponde ad una tutela altrettanto ampia certamente certo quali sono gli aspetti che lei suggerisce assolutamente non devono mai mancare in una polizza che possa garantire la sicurezza anche per tornare la sicurezza nostra ma anche insomma delle persone che circolano per la strada o comunque si trovano ad essere presenti intorno a noi diciamo che noi cerchiamo sempre di spiegare ai clienti diciamo queste garanzie per una sicurezza per i clienti non so è importante comunque essere chiari sui contenuti e far comprendere che come si diceva una polizza un po' più pesante avrà anche delle garanzie più significative scoperti e franchigie di quello che può esserci che si trovano tra una polizza e l'altro per esempio certamente e anche questo incide perché uno ha un incidente però se poi ha una franchigia da pagare giustamente anche in questo caso battuta conclusiva che cosa significa la polizza guido bene la polizza guido bene è un nuovo prodotto che è appena uscita da Sara diciamo che è una polizza che un più guida bene il cliente con più ha uno sconto e chi se ne accorge se l'automobilista guida bene allora alla stipola della polizza al momento al momento della stipola il cliente ha già un 25% di sconto che può arrivare fino al 40% questo perché? nel secondo anno montiamo un apparecchio satellitare sull'auto del cliente lo diamo incomodato d'uso gratuito certo diciamo questo apparecchio ha la facoltà di riprendere tutto il sistema di guida è una sorta di scatola nera esatto chiaramente registra anche frenate brusche accelerazioni brusche curve fatte male sorpassi quindi dobbiamo davvero guidare bene esatto si fare molta attenzione certo certamente da qui scaturisce poi un punteggio che dà un ulteriore sconto nel secondo anno di rinnovo della polizza che il cliente può usufruirne quindi è molto interessante con forte battuta conclusiva battuta conclusiva capita a noi genitori di far usare la nostra macchina ai nostri figli e certo capita e quindi in questo caso forse avere più garanzie per noi è la cosa migliore perché ci fidiamo ma se abbiamo la garanzia è meglio ti faccio un'ultima domanda anche questa è una battuta conclusiva Conforti panettone o pandoro? sono a dieta nessuno dei due sai perché? perché ci salutiamo in questo 2019 quindi insomma dopo tutto il flash delle feste però a gennaio ci rivedremo e quindi la curiosità di tutti quelli che ti seguono era sapere se preferisci il pandoro o il panettone ma tu dici nessuno dei due sono a dieta benissimo allora con la rivederci addirittura il 30 di gennaio 2020 quindi insomma ti aspetteremo nuovamente qui ho saluto e ringrazio Roberto Conforti e Bruno Basoli grazie per essere stati con noi grazie grazie anche a voi rimanete lì perché come ogni sera tra poco la linea passa ai colleghi dell'informazione Grazie a tutti